5, 4, 3, 2, 1, via, attenzione 60, destra preso, grande pulita, sta all'interno, sinistra 4, 2, 1, via, 100, tieni la sinistra su crinale, attenzione destra 6 lunga, pulita 30, sinistra 100, tieni la sinistra su crinale, in destra 6 lunga, attenzione 100 discesa, tornate destro, sinistra 6 lunga, sinistra 6 lunga, sinistra 6 lunga, sinistra 6 lunga, attenzione destra 4 si restringe, sinistra 5 lunga, sinistra 3, in destra 5 lunga, sinistra 4 lunga, attenzione destra 6 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 lung sinistra 5 sul finale poi in destra 360 attenzione sinistra 6 sull'80 si restringe all'onante sinistra in destra 5 si restringe all'onante destro lungo in sinistra 4 destra 6 60 in finale sinistra 6 sinistra 4 poi turno 80 destra 3 lunga 60 attenzione sinistra 4 lunga 60 destra 6 sinistra 3 lunga si restringe destra 4 in destra 3 e meia in destra 4 120 attenzione in sinistra 5 lunga 100 attenzione crinale possibile 160 sinistra 3 lunga 60 destra 3 lunga 120 sinistra 1 lunga in attenzione destra 2 insidiosa in destra 3 lunga si restringe all'onante sinistra in destra 4 tra 4 in destra 4 1 in destra 4 Grazie a tutti.